Accolto nella sala del Consiglio Comunale dal sindaco Giovanni Compiani, il Fiorenzuola Calcio si è presentato alla città. Dopo la cavalcata vittoriosa dall'eccellenza alla Serie D, la squadra di mister Alberto Mantelli è solo parzialmente rinnovata, con importanti innesti come Guglieri e Piccolo. Obiettivo dichiarato la salvezza e far divertire il pubblico. Noi abbiamo fatto una grandissima campagna acquisti, anche perché pensiamo di avere una squadra già ben equilibrata, e soprattutto perché non abbiamo pretese di vittoria, pertanto crediamo di poterci divertire e di fare un buon campionato. I gironi devono ancora essere sorteggiati e la possibilità di incrociare il Piacenza Calcio è molto alta. Non lo vediamo come un qualcosa da evitare, soprattutto perché il Piacenza Calcio ha obiettivi diversi dai nostri. Sicuramente se noi avessimo l'obiettivo di vittoria probabilmente cercheremmo anche di evitarlo, ma noi non abbiamo questo obiettivo, è un obiettivo che hanno loro anche perché hanno allestito una grandissima formazione, per tanto a noi, anzi, ci farebbe piacere essere col Piacenza Calcio perché abbiamo una trasferta molto vicina. Il mercato è quasi chiuso, nel senso che ci siamo mossi per tempo, abbiamo ancora un paio di innesti, uno o due innesti da fare nel reparto, nella retroguardia, ci stiamo guardando intorno, specialmente tra i giovani, vediamo di concludere a breve. Il vostro punto di forza qual è? Sicuramente il gruppo, il gruppo che ci ha portato a vincere l'anno scorso, della nostra forza. Dopo con il gruppo vengono fuori anche le individualità. Alla presentazione ha partecipato anche mister Marco Torresani, traghettatore del Fiorenzuola in Serie C2, ormai 25 anni fa, una presenza di buon auspicio. È un ottimo ricordo, io sono legato particolarmente al Fiorenzuola perché è stata la mia ultima società come giocatore e la mia prima come allenatore, quindi figuriamoci se posso dimenticare un'evenienza di questo tipo. In più c'è quel ricordo di quel famoso campionato in cui si è approdati finalmente al professionismo. Dopo Fiorenzuola ha fatto dieci anni, mi sembra, belli tra la C2 e la C1. Grazie a tutti.